Ecco qua, ordinati lunedì e arrivati mercoledì, velocissimi dalla Finlandia. No pet! Cosa ci sarà in questa scatola? Io l'ho disinfettata, che sono paranoica. Ora apriamo. Apriamo. No pet! Ta-da! Voilà! Una bellissima visiera di tendenza! Vedrete, vedrete, vedrete. Bellissima, la scatola si presenta molto bene. Molto bene. Ora cerchiamo di aprirla. Cerchiamo di aprirla con grazia. Con grazia, non ci riesco. Ecco. Super sigillato. Super sigillato. Questa è la mia supervisiera per l'estate, per il sole, per la protezione del covid. All'interno troviamo il panno per pulire la lente, poi troviamo la custodia per riporre l'occhiale, anzi la visiera. Poi, qualche gadget, adesivi, result guarantee, un po' di adesivetti di regalo. E ora vediamo questa bellissima visiera. No, è fantastica. Intanto vediamo se posso indossarla con i miei occhiali. Perfetto. La indosso anche con gli occhiali da vista. Perfettissima. Ti aspettavo, visiera. Ora possiamo andare. E per fare la cosa completa, facciamo in questo modo. Mascherina. Ok. Occhiale. Da vista. Maschera. Visiera. Ora posso andare. Sono pronta. Con la mia super protezione. Super chic. Grazie Nopet. Grazie Nopet.